Non ci avete mai sentito cantare una canzone di Guccio Dava, ma una prima volta c'è sempre. E volevamo cantare questa canzone perché è una canzone che ci dà un po' di visione, ci fa pensare a cosa potrebbe diventare essere dei mani. Noi domani speriamo di ritrovarvi, speriamo di ritrovarvi una serata come questa. Ci seguite sui nostri social, ci seguite sul nostro sito, ci seguite su Instagram, Facebook, Twitter e il web, dove Piffera vi pare. Seguiteci! Ma prima di cominciare e di finire questa serata, lasciatemi presentare con dovizia di particolare. Alla mia sinistra, il pasto elettrico del Trivento, Andrea Garbelotto. Ciao Paolo, il nostro nuovo testierista, mi pare che sia stato un debutto fantastico, il nostro Michele Castaneo. Io ormai non ha debuffato con noi, ma è una vita che è con noi, è il nostro meraviglioso sassumonista. Ma suona anche l'armonica, stasera non c'erano pezzi per farlo, forse ha fatto un piccolo pezzettino, ma suona qualsiasi cosa. E' il nostro meraviglioso Marco Biasi. Con la mia estrema destra, la chitarra elettrica della Pop Corner Band. Uno che conosco appena appena da una cinquantina d'anni, ma... Si chiama Mauro Scappolo. E dietro a Mauro Scappolo, una battaglista di vecchia data, perché a nostra conoscenza suona con me e con Mauro D'Arte. Ormai, anni immemorabili. E' il nostro meraviglioso e piccolo Alessandro Garbelotto. Alla mia destra, la stasera veramente eroica, credetemi, è imbottita in qualsiasi cosa, l'altra parte è anestesista come il mio amico Angelo Ferini che è qua. Non so come abbia fatto arrivare la fine, ma c'è arrivata, perché la tempra è forte. Fiorenta Franceschi! Ce n'è ancora, ce n'è ancora! In mezzo a tutti noi, il grande capo Enrico Meridiano! La cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a vent'anni, anche se vivi fino a cento? La cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po' esubriato, a dare l'amore per un pezzo di pane, un bacio nominato? Con noi, con noi! Oh, cosa sarà? Che si svegna il mattino, sei serio? Che ti fa morire a vento, notte a ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà? Spinge il tuo mare, una donna bassina ubriata, La bottiglia che ti ubriaca, anche se non l'hai bevuta Cosa sarà? Che ti spinge a dichiare il tuo mare, che ti fatta cercare giusto, dove giustizia non c'è? Cosa sarà? Che ti spinge a comprare di tutto, anche se di niente ti hai bisogno? E cosa sarà? Che ti strappa dal sogno? Con noi! Oh, cosa sarà? Oh, cosa sarà? Fa uscire in tasse dei no, non ci sto! Che ti cerca nel mare, ti vieno a salvare! Oh, cosa sarà? Che dobbiamo cercare? Che dobbiamo cercare? Che ci fa lasciare le biciclette sul muro, e camminare la sera con un amico, a parlare del futuro. Oh, cosa sarà? Questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare, la notte che scende. Oh, cosa sarà? Oh, cosa sarà? Oh, cosa sarà? E' un uomo con il cuore per il vento, sceso dalle scarfe dall'etco, per il senso e sentivo solo come un uccello che vola, come un uccello che vola, si interna e guarda laggiù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.